Io presento il mio film Tito, il mio primo lungometraggio e interpreto un personaggio maschile in questo film. Ho fatto riferimento alla recitazione cross gender per interpretarlo, ho voluto esplorare il mio lato maschile. Credo che il film sia divertente, bizzarro, esperimentale e credo che siano buoni motivi per andare a vederlo. Il mio film Tito parla proprio di questo personaggio che dà il titolo al film. È un ragazzo che è molto spaventato, prova tantissima ansia nei confronti del mondo esterno e soffre di agorafobia. In questa situazione poco per volta si accorge di non avere più cibo e di dover assolutamente vincere la sua paura per andare ad acquistare del cibo. Quando sembra che tutto sia perduto, ecco che arriva un vicino di casa che sembra portare la salvezza e la soluzione a tutti i suoi problemi. Però ci sarà una sorpresa. I hope you come see my film at the Torino Film Festival. Thanks for having me.